amici tecnologici benvenuti in questo nuovo video se sei arrivato fin qui allora stai cercando un pacco batterie delle informazioni su come andare a costruire il tuo pacco batterie a litio con celle 18 6 50 da 5 s perciò con 5 celle serie 21 volt perfetto ottimo gf elettronica specializzata nella tecnologia litio e non solo anche l'illuminazione led energie alternative da questo momento può aiutarti ma non solo con un semplice video e basta noi possiamo fornirti delle guide complete e aiutarti passo passo nella costruzione del tuo pacco batterie quella che stai vedendo in questo momento è la copertina della guida il pacco batteria 2s dove ti spieghiamo come andare a costruire il pacco batteria da due celle in serie come sai i video di youtube non sempre sono molto diciamo lineari non ti spiegano passo passo le componentistiche consigli per gli acquisti dove andarli ad acquistare schemi elettrici eccetera eccetera i nostri guidi invece a differenza vengono appunto create da tecnici per aiutarti il più possibile avvantaggiarti il più possibile nella costruzione del tuo pacco batterie cosa tratteremo nella guida semplicissimo tratteremo quali componenti andare ad utilizzare tratteremo quale schema elettrico mettere in pratica cioè ti daremo anche uno schema elettrico per le interconnessioni step per la costruzione cioè cosa fare prima cosa viene dopo eccetera eccetera test e uso della batteria cioè dopo che hai finito come puoi testare se tutto funziona e poi ci saranno ovviamente sparsi per tutta la guida per tutto il fascicolo dei consigli tecnici specifici su componentistica su come per esempio fare una buona saldatura consigli appunto che ti sono certamente utili al momento della costruzione del tuo pacco batteria e poi nozioni basi e specifiche su componenti e in generale sul pacco batteria il prezzo della guida costruiamo il pacco batteria 3s ma come anche 4s 5s 6s fino a 14 15s infatti nel nostro campionario nel nostro diciamo catalogo abbiamo anche guide fino a 15 16s il prezzo è di 9 euro e 90 puoi richiederlo sia cartaceo cioè con consegna a domicilio nel tratto a casa tua o pdf tramite diciamo invio telematico e niente se sei interessato il prezzo è di 9 euro e 90 per ogni fascicolo varia il prezzo per quello stampato e spedito a casa ovviamente e niente se è interessato gf.elettronica o visita il sito sottolincato per ordinare direttamente dall'econverse ciao grazie